Renato Roca, Findus, dopo la pandemia si è posto il problema di intervenire in modo strutturale sulla salute, il benessere, il legame di attività e di impegno anche fisico, mentale, dei propri dipendenti. Che cosa avete fatto concretamente? Sì, innanzitutto grazie, buongiorno e grazie a Giordano e CEO for Life per l'opportunità di condividere e di ascoltare tante esperienze stimolanti e arricchenti. Noi in Findus abbiamo messo al centro del nostro impegno lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità e amiamo dire che sostenibilità vuol dire responsabilità. Uno dei punti del nostro approccio alla sostenibilità e alla responsabilità è quella di garantire, di far sì, di occuparci del benessere mentale e fisico dei nostri dipendenti e delle nostre persone. Durante il periodo di pandemia avevamo il bisogno di tirar fuori, di riscaldare il senso di comunità e di squadra che poteva essere un po' disperso dal fatto di lavorare tutti da remoto alle proprie case e di assicurarci che le persone avessero un equilibrio di benessere fisico e psichico, mentale. E quindi i miei colleghi delle risorse umane, due dei quali Valerio Vitole e Giacinto Nasole sono qui oggi, hanno avuto questa intuizione di creare questo progetto che si chiama Attiva Mente, quindi giocando sui due aspetti, coinvolgendo Max Monaco che è un maratoneta e un mental coach, partendo da una serie di webinar che hanno introdotto le nostre persone al concetto del benessere fisico da risvegliare attraverso l'attività fisica, quindi invitandole a uscire dalle proprie case almeno tre volte alla settimana per compiere un'attività che potesse essere una camminata o un progressivo avvicinamento al jogging, alla corsa, alla pratica fisica capendone i benefici psichici che sono indotti. Senso di comunità risvegliato del fatto che tutte le persone hanno ricevuto un manuale, una t-shirt con il marchio Findus e sono state invitate a registrare i propri progressi all'interno di un'applicazione con l'obiettivo da parte dell'azienda di trasformare i chilometri percorsi delle nostre persone in una donazione a favore di un ente benefico con cui ci onoriamo di collaborare da anni che è la GOP, l'associazione dei genitori di pazienti affetti da oncologia pediatrica che opera presso l'ospedale Gemelli. Quindi le persone avevano non solo un obiettivo di migliorare il proprio benessere fisico e psichico ma in senso di comunità contribuivano tutti insieme a creare la possibilità per l'azienda di avere una donazione a vantaggio di questa associazione pediatrica. Il progetto ha oramai una durata pluriennale, è andato avanti, si è evoluto nel corso del tempo, è nato in piena pandemia ma poi ha anche unito un aspetto nutrizionale legato all'alimentazione essendo noi un'azienda alimentare questo è un aspetto a cui teniamo particolarmente e nell'ultima evoluzione adesso si è creata una sorta di competizione interna perché le persone si sono suddivise in team e stanno lavorando per poter vincere. La competizione è legata alla media dei chilometri percorsi all'interno di un certo periodo da ognuno dei componenti del team e l'obiettivo di unire a benessere fisico e psichico anche l'obiettivo comune di partecipare alla trasformazione dei chilometri percorsi in una donazione che l'azienda continuerà a fare a favore di Ollus che operano nel sociale e confermato anche per gli anni a venire.